L'era dei fondamenti, Calia, numero 2, scontro nel sottosuolo. Wabalabadabab e bentornati, sono Mamma Mazzo, bentornati nella rubrica fumetti, nella rubrica fantasy, nella rubrica Bugs Comics, perché parliamo appunto della seconda opera da edicola targata Bugs Comics. Se seguite il mio canale, se seguite la Bugs Comics, saprete che da molto tempo stavano, diciamo, creando questo mondo, questo mondo che è Tei, al mondo dove si muove la protagonista e i suoi comprimari, Calia, Tag, Lena e Aridan, dai, ho già imparato quattro nomi al secondo numero, tanta roba, in questo contesto fantasy che, a detta degli autori stessi, ribalta un pochino la, diciamo, gli stilemi del filone stesso, quindi vedremo alcuni ruoli ribaltati. Uno tra tutti, per esempio, abbiamo visto che gli elfi, che sono delle creature algide, pure, votate al bene nella nostra testa, nella nostra mitologia classica del fantasy, qua sono degli stronzi, fondamentalmente, quindi sulla base di questi ribaltamenti vedremo tante novità. Prima di cominciare, se ancora non lo avete fatto, vi chiedo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace o un non mi piace a questo video e anche a tutti gli altri, che vi frega di condividere il video con tutte le persone che hanno una gang e di commentare qui sotto con quello che viene parso di questo secondo numero, di questo nuovo fumetto in generale. e scrivetemi qua sotto cosa pensate che succederà, i vostri sospetti sulle origini di Calia, se vi è piaciuto o se non vi è piaciuto, tutto quello che volete, seguitemi anche sugli altri miei social, tra cui Instagram e Twitch e anche TikTok, perché no? Mi scuso per la voce nasale, ma l'influenza continua, imperterrita, non lasciarmi libere, le vie aeree, quindi perdonate, sono contento che la sentiate, perché vuol dire che avete un bel comparto audio, però mi dispiace che la sentiate così, ma parliamo appunto del numero 2. Se voi avete seguito il video del numero 1, saprete che la mia titubanza su Calia, da non esperto di fantasy a fumetti, è stata il fatto che Calia venisse introdotta semplicemente a pagina, solamente a pagina 30, no? Quindi io avrei voluto vederla molto prima, proprio perché mi avevano fomentato tantissimo con questa hype di questo personaggio che sarebbe arrivato nell'edicole il 9 novembre, no? E quindi aspettare altre 29 pagine mi aveva, mi aveva fatto, mi aveva fatto stare un po' male, ho detto cazzo, voglio vederla subito Calia. E quindi ho cercato, in questo numero, di avere un approccio differente. Tutto questo contorno alla protagonista, che è appunto il mondo di Theia, che è rappresentato dai due libri di Theia, ne è uscito già uno in fumetteria, in libreria, sul sito della Bugs Comics, poi ce ne sarà un altro, che racconta un po' la Bibbia di quello che è il mondo di Theia, ma anche le pagine scritte, introduttive, che c'erano nel primo numero, che erano una decina di pagine, ma anche nel secondo numero c'è una paginetta. Ecco, ho deciso di saltarle per ora, nel senso che se io voglio un'immersione completa in questo mondo, senza avere una grossa introduzione da libro, sono saltato subito ai fumetti. Ed è un po' il consiglio che mi sento di dare a quelle persone che sono un po' titubanti su Calia. Ovvero, se voi siete molto propensi al fantasy, volete divorare ogni singola cosa di qualunque prodotto fantasy che ci sia, chiaramente dovete leggere anche tutte le parti scritte, perché vi introducono meglio alla mappa, al mondo, eccetera, eccetera. Ma se invece questa cosa vi potrebbe allontanare invece dal fumetto, non leggetela. Non leggetela, andate oltre. Andate oltre e tuffatevi, immergetevi insieme alla protagonista nel suo mondo. Scoprite le cose che scopre la protagonista insieme a lei. Poi tanto, se c'è qualcosa che non vi torna, siete sempre a tempo a tornare a leggere quello che vi hanno proposto all'inizio o nelle varie guide che ci sono in libreria. Spendo anche due parole un attimino per i disegni, che come ho appena detto, io mi sono tuffato subito nella prima pagina del disegno e trovare una prima pagina di questo tipo, ragazzi, è da mozzare il fiato. Non c'è bianco, non ci sono contorni, è come... è praticamente una semi-splash page, nel senso che è su un solo foglio, non è su due fogli, dove ci sono anche delle vignette in sovraimpressione. È fatta così bene che sembra a colori. Ho detto una cosa molto simile per l'ultimo numero di Samuel Sterna e la ridico anche in questo secondo numero di Calia. Nonostante sia in bianco e nero, in scala di grigi in realtà, si percepisce quasi il tratto pittorico, il tratto a colori che avrebbe potuto esserci. è una cosa che mi piace tantissimo. Tutte queste... le prime tavole all'inizio, che tra l'altro sono tavole di un flashback, fondamentalmente sono tre paginette di flashback, si distinguono dal resto del fumetto proprio per questa full immersion priva appunto di colonnine, di spazi bianchi. Poi appunto si va nel presente e la griglia diventa un pochino più classica, dove classica ha un senso relativo, nel senso che tutto ciò che fa la Bugs Comics è molto moderno, quindi quando dico classica intendo classica per gli standard della Bugs Comics. Le inquadrature, le tavole sono tutte, tutte molto, molto moderne, trassudano modernità. Si capisce che è un fumetto nuovo, che è fresco, ed è un'altra cosa che mi piace molto. Parlando di spiegazione, ecco c'è una paginetta dove Lena, credo che sia la pronuncia corretta questa qua, se no mi picchiano, Lena spiega, mi sembra la natura dei Galdest, anche questo invece non so bene come si pronuncia, c'è una diattriba, scrivetemelo qua sotto, con la G dura o con la G morbida, spiega un po' l'origine dei Galdest e lo fa all'interno della tavola. Quindi quello che dicevo prima, se voi non vi siete letti Theia, non vi siete letti l'intro delle dieci pagine del primo numero, se non vi siete letti il numero zero, comunque se serve viene spiegato, di conseguenza potete comunque immergervi nel fumetto nonostante tutto. E devo dire che a metà della lettura è più fruibile, perché c'è un vago sentore di spiegoni, ma è normale, siamo al secondo numero di una saga fantasy che ci introduce tantissimi concetti, e quindi è normale che si passi un po' da delle spiegazioni durante i dialoghi. Però ecco, è un sentore che è sottile e sono sicuro che andrà sempre diminuendo in favore di una narrazione più visiva, oltre al fatto che mano a mano che andremo avanti saremo anche noi fan, noi lettori, a conoscere meglio questo mondo. Questo numero l'ho trovato già molto più bilanciato, molto più equilibrato rispetto al primo, vediamo già subito i quattro protagonisti che sono in copertina interagire molto meglio tra di loro, perché appunto le presentazioni sono già state fatte nello scorso numero, è bello vedere un paio di, anche si parietti comici tra Aridan e Tag, che sono un po' le controparti più leggere delle protagonisti femminili, che sono Lena e Kalia, che sono appunto invece le controparti più serie, le controparti più battagliere, non dico guerrigliere perché è vero Kalia combatte, ma Lena in realtà è un alchimista, però ognuno a suo modo contribuisce alla squadra con la forza, con la battaglia, Lena anche con la conoscenza ovviamente, però ecco sono loro la parte forte di questa squadra, mentre la parte più leggera sono appunto Aridan e Tag, ed è bello vedere questa alchimia, scusate se uso questo termine in maniera impropria in questo contesto, dato che qui va molto usata con parsimonia questa parola, per non confondersi, però ecco mi piace vedere questa, questa chimica ecco che c'è tra i personaggi, c'è anche un siparietto in cui ci mostrano dall'altra parte del mondo, dei regnanti che stanno discutendo su questo alchist che è caduto, cosa farne, cosa non farne, è un siparietto che ho trovato molto alla Game of Thrones, quindi molto politico ecco diciamo da questo punto di vista, e anche questo l'ho trovato molto più calato nel contesto, perché appunto è a metà mentre si svolge l'azione primaria, a differenza appunto del numero 1, dove c'era questa parte un po' politica all'inizio, che era appunto poi l'introduzione al personaggio di Elena, qua invece appunto è messa lì, in una piccola parentesi al centro del numero, e sono stato molto felice. Ho parlato all'inizio degli elfi, oggi già nel secondo numero, io onestamente non pensavo di vedere già tanto degli elfi, già tanto del loro carattere, dei loro anche dilemmi morali nel secondo numero, perché pensavo, temevo quasi, che ce li dipingessero come stronzi bidimensionali, per parecchi numeri, prima di approfondire la loro personalità, e invece qua già vediamo un bel conflitto, che mi è piaciuto molto, tra due personaggi elfi, riusciamo anche a intravedere quantomeno uno degli elfi sotto la maschera, e capire quanto può, quanti danni può fare il morbo pallido a un essere umano, in questo caso a un elfo, però intuisco dalla presenza degli altri elfi che possono esserci delle tumefazioni molto più gravi rispetto a quella che abbiamo visto nel personaggio che ha perso la maschera durante uno scontro, sembra una forma leggera, c'è un altro personaggio che molto probabilmente è marcio, totalmente, totalmente corroso dal morbo pallido, e deve essere davvero disgustoso da vedere, credo che quello lo vedremo, se mai lo vedremo, lo vedremo molto più in là, proprio per creare questa aspettativa di orrore. Il fatto che Kalia non sappia nulla di chi è e di quello che è la sua origine, ci fa immedesimare molto con lei, perché anche noi non sappiamo niente di questo mondo, nonostante ce lo stiano spiegando, appunto con le varie guide, con le varie bibbie, però è molto bello imparare le nozioni di questo mondo insieme alla protagonista, che è un valore, io do sempre molto valore a questa cosa, perché mi piace, mi fa immedesimare molto molto di più. C'è anche un ritorno del Galdest, che ha dato, diciamo appunto, la missione a Kalia, di ritrovare l'Alkest, adesso mi sfugge il nome, se non sbaglio, si chiama Dakan, C'è il ritorno di Dakan, che fa una piccola comparsa, mi piace che ci fanno capire che Lena e Dakan già si conoscono e questo ci permette di andare oltre le presentazioni, le conoscenze che magari sono lunghe, eccetera, eccetera, vista anche la curiosità del personaggio di Lena, che non smette mai di farsi i cazzi suoi, cioè di farsi i cazzi degli altri, di fare domande, che servono alla narrazione per capire meglio cosa c'è dietro alla storia di Kaya, ma all'interno della narrativa rende Lena un personaggio molto curioso e il fatto che conosca già Dakan ci permette appunto di andare oltre e non fermarci sulle presentazioni, questa cosa l'ho gradita molto. Sicuramente un numero che mi è piaciuto più del primo, ma in generale non lo considero neanche un secondo numero, considero entrambi i numeri una piccola presentazione, come nelle serie tv degli anni 90, dove la puntata 1 e la puntata 2 erano fondamentalmente il pilot completo di questa serie. Ecco, questo pilot, composto da due numeri, mi è piaciuto davvero tanto e penso che continuerò a leggerlo e semmai, appunto, come ho detto all'inizio, ci sarà un mese che non avrò voglia di immergermi totalmente nel mondo fantasy, perché non sempre si ha voglia di fare una lettura così, passatemi il termine, impegnativa, sicuramente più impegnativa magari di un Dylan Dogg, di un Samuel Stern, che sono ambientati nel nostro mondo. Se mai non avrò tutta questa voglia di immergermi in un mondo fantasy, semplicemente mi ci butterò dentro, come ho fatto in questo numero, saltando magari le parti scritte per godermi di più il viaggio. Ecco, quindi questo consiglio che do alle persone che magari sono un po' titubanti nel buttarsi in un mondo così vasto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo secondo numero, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino alla fine del video e con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video che potrebbe essere o quello del Derry Lang oppure il riassunto della stagione 11 di Buffy che, spoiler, allerta, mi è piaciuta più della decima, oppure Tartaruga Ninja Power Ranger. Dipende da cosa trovo per primo e dal tempo che ho prima per fare il video. Grazie ancora e arrivederci.